Let's gooo! Bentornati, ovetti! Tre caffè! Su Sonic Superstars, Press Factory, Zone, Atto 2... Ah! Mi sto anche strozzando un po'? Siamo ancora Tails, e vi ricordo che non manca molto! Abbiamo quasi tutti quanti gli smeraldi del caos! Ce ne manca uno, di questa zona, e poi avremo finito! Presumibilmente, almeno! Questo perché, come potete ben notare, abbiamo due slot. Sappiamo benissimo quale sarà questo qua in alto, giusto? Perfetto! Vedo nello sfondo quella sottospecie di drone che si sta caricando, quindi dago sospetto che io non debba lasciarlo caricare. Cerchiamo inoltre di non essere schiacciati, perché vi ricordo che essere schiacciati è morte istantanea. L'abbiamo visto nello scorso episodio, dopo tutto. Vai! Non ho capito come ho fatto a controllare quella spera, quella sfera strana. Però, se non troviamo in tempo... Non, 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 non ti azzardare a schiacciarmi! Lo smeraldo del caos potrebbe essere un problema! Ok, ho visto il 4 su quel drone? Mi sa di sì. Ok, allora, su e giù cambiano la direzione di Tails, quindi così, esatto, posso andare ancora un po' più avanti. Aspetta che volevo, in effetti, lanciarmi da qualche parte, però devo... Aspetta, fermi, fermi. Ho visto che quel pulsante resetta il coso. Come? Come si scende? Mi serve un pulsante! Eccolo, 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 eccolo! Vai, vai, vai! Ok. Ok, cerchiamo con tutto noi stessi, è italiano, spero di sì, di non farci trollare da quel drone. Non so se ci sparano, non so se è morte istantanea, probabilmente è morte istantanea, un po' come se fosse, beh, il nuoto. Però, finché sto trovando questi pulsanti, li premerò sempre. Aspetta, parkour, che posso abilmente evitare con le code di Tails. Bene, così. Forse non devo saltare. Forse l'ideale sarebbe trattenersi il più possibile, perché avete visto che ho distrutto le piattaforme quando ho saltato? Quindi... Ah! Quindi, ovviamente... Aspetta. Fammi riprendere questo. Non! Fammi! Ok. Comunque sì, le piattaforme di ferraglia si distruggono se salto. Questo vuol dire che potrebbe esserci qualcosa qui se non salto e continuo ad andare avanti per questa strada. Quella è una lampadina, piano. Piano. Ci deve essere... Qualcosa qui. E c'era qualcosa lì. C'era una pressa che ci ha distrutti. Adoro fare queste cose. Bene. Dove siamo? Siamo un'altra volta qui! Abbiamo perso così tanti progressi. Va bene. Possiamo volare, ripeto. Quindi posso bene o male ignorare tutto quello che ho fatto fino adesso, finché posso correre avanti. Però mi serve un'altra volta il pulsante! Fermi! Ok, ok. Inoltre queste cose si accendono. Quindi cerchiamo di non toccarle perché il calore fa male. Fammi passare, grazie. Stavolta andiamo sotto. Oh, fermi, 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 fermi. No, no, no! Tails! Fammi scegliere a me dove andare. Oh, mamma mia. Tre secoli per fare una cosa. Ora, occhio qua. Andiamo in alto. Ti prego, dammi un portale per uno smeraldo del caos. Anzi, per l'ultimo smeraldo del caos. Altrimenti potrei essere in grossi guai. E già che ci stai, mi servirebbe un altro di quei cosi che resettano il drone che sta là dietro. Sicuramente arriverà a breve, che vi ho detto. Perfetto. Attenzione. È un razzo. Non lo sto controllando io, eh. È tutto automatico e mi ha fatto vedere che in questa zona non c'è assolutamente nulla. C'è un checkpoint, quindi grazie. Però non c'è nessuno smeraldo del caos. Nessun portale. Più tardi andremo anche, credo, verso la prossima zona. Avrebbe molto... Oh! Ci ha detto di usare qualcosa? Avatar? Ah, per prendere quelle... Ok, no. Sentite. Se è solo per prendere quelle, potrei evitarlo. Però va bene, lo uso solamente per prendere una bella medaglietta in più. Tanto finché non troviamo un altro checkpoint. Dovre stare a posto. Non facciamoci schiacciare da questo coso. Ah, devo salire adesso. Beh, io salgo. E non... Come si controlla sto coso? Zucchero! Stavo facendo una battuta al gioco. Dammi il tempo di respirare. Così va bene. Ok, ce l'ho fatto. Qualcosa qua in alto? No, non c'è nulla. Ho perso tempo. Non voglio sapere... Sta registrando il video? Sì, ok. Non voglio sapere che succede se perdiamo... Ok. Magari più tardi ritornerò in questo livello. Soprattutto se non trovo il portale per lo smeraldo del caos, mi raccomando. Per vedere che succede se il drone si carica al massimo. Niente di buono, l'ho già detto. È probabile che sia niente di buono. Però... Checkpoint! E già che ci sto... Zona bonus! Prendi le medaglie. Rilassiamoci. E cerchiamo di non cadere nel vortice distruggidimensionale. Eccoci qua. Allora. Come va, gente? Come va? Oggi? Che giorno è oggi? Sapete che non lo so. È un po' difficile, visto che sto registrando leggermente in... No, no, no! Leggermente in anticipo. Cosa molto buona per me, perché raramente ho dei video da parte. Adesso sì, però. Quindi grazie mille. Wow! Come ho fatto ad evitare quei portali. Non lo so neanche io. Bene. Medaglia numero uno ottenuta. Ve l'ho già detto più volte. Non ho intenzione di provare a prendere tutte quante le... Tutti quanti gli anelli qua. Non ha molto senso. Cioè, sì, danno una medaglia in più, ma... Cioè, oltre quello. Vai giù, Thales. Ok. Sì, lo so che non si scrive Thales. È un po' per... No! Prendere in giro Ninetales. Che si scrive Ninetales. E non Ninetales. Ma lasciamo stare. Detto ciò, ho appena finito di guardare una certa serie TV. Che non voglio consigliarvi perché me la voglio tenere per me. Non ve la consiglierò mai. Ha 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 ha! Però suppongo sappiate di quale serie TV sto parlando. Fammi andare giù! Fammi andare... No, 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 no! Scende giù? Ok, non scende giù. Sì, è uscita recentemente. Quindi cosa può essere, secondo voi? Come faccio alla... Ah, devo salire. E come facevo a... A salire senza perdere? Probabilmente... Ah, dovevo semplicemente salire sopra al... Alla piastra. Non è una piastra. Fammi andare qua. Dai. Su! E finché posso fare parkour, mi va bene. Soprattutto perché vi ricordo, nel mio libro, parkour vuol dire che siamo arrivati nella zona giusta. Perché è difficile una zona da raggiungere. Più è probabile che ci siano cose nascoste. Quindi vai. Su! Voliamo. Già che ci sto. Perché perdere tempo quando... Perché camminare quando puoi volare? Ok. Però se non volo in fretta, mi sa che siamo nei guai. Tipo, ora devo sbrigarmi. No. Vai su. Vai su. Ok, ok. C'è, c'è. No! No, no, no. Voglio volare su. E già che ci sto, ritornerò su quel pulsante. Cosa c'è qua sopra? Non c'è niente là sopra. Sei serio? Aspetta, allora. Come si gira sto coso? Così? Bene. Sì, sì. Si gira così. Quindi clic. Andiamo giù. Piano, Tails. Rompi tutto, ma non troppo! Ma che succede? Non posso premere nessun pulsante. Ok. Funziona? C'è un modo per scendere più in fretta con Tails? Un attimo. Cerchio, triangolo, quadrato, L1, R1. No! Non funziona. Non c'è un modo per scendere più in fretta con Tails. Peccato. Piastra. Piastra. Ok. Ah, non c'è più il drone. Quindi il drone quando non c'è niente dietro siamo a posto, insomma. Si parte a razzo! Oh, la faccia se si parte a razzo! Ok, si è rotto tutto. Aspetta, dove sono? No? Nessun anello? Sei serio? Nessun anello? Ok. Ah, eccolo qua! Che vi ho detto che ci sarebbero stati anelli. Era una cosa abbastanza ovvia. Di norma quando si cade in questo modo ci sono sempre anelli. Quindi, grazie. Siamo tornati in superficie? Sì. C'è qualcosa qui. Qui a sinistra. Tanto per controllare. Eh, sì che c'è! Perfetto, mamma mia. Andiamo. Questo è l'ultimo smeraldo del caos. Bianco. Prendi il caos emerald. Vai! Meglio prendere quanti più di questi possibili. Fammi un bel boost! Sta arrivando? No. Che razza di giro sta facendo? È così lontano? È seria? No! No! Detesto quando succedono queste cose. Boost! È così lontano. Come faccio a raggiungerlo in tempo? Aspetta, aspetta, aspetta. Approfittiamone. Prendiamo tempo extra. Mamma mia, è estremamente lontano, eh. Aspetta. Voglio quello. Eh... No! La bomba! Dammi... Ok. Come lo raggiungo? È impossibile! No. Ok. Va bene che è l'ultimo. Quindi, ovviamente, ci metto tre secoli e mezzo a raggiungerlo, eh. Ma... Non è quello il punto. Abbiamo mancato un boost. Eh... Quello mi fa salire. Questo mi fa salire? No. Questo. Bong! Ok. Vai! Così... Incredibilmente... Mi sa che non riuscirò a prenderlo, eh. Sappiatelo. Ehm... Ci posso provare? Ovviamente, ma... Non credo che la cosa accadrà. Vai. Ho visto questo! No! La bomba! Fammi salire! No! Fammi salire! Fammi salire! Oh! Ok. Meglio ricaricarlo. Ho visto il boost! Ci siamo quasi, mi sa. Mi serve un altro boost. Vai! Preso! Ho preso tutti gli esmeraldi del caos. Ce l'abbiamo fatta. No? Come no? Ah, ok. Ok. Appariva dopo. Perfetto. Nuovo potere. Tecnicamente due. A meno che... Oh. A meno che l'ultimo potere non si sblocchi più tardi. Extra. Esegui un attacco speciale. In questo modo. Power! Ah. Ah! Oh, vortice! Che l'attacco speciale vari in base a... Aspetta, intanto lo posso fare in aria. Perfetto. E questo potrebbe essere molto comodo contro i boss. Mi raccomando. Mi chiedo se magari Tails fa vento perché ha le code. Knuckles magari tira pugni. Eccolo qua. Ora Tails ha i super poteri. Certo, esiste? Aspetta. Quindi vuol dire che l'ho già sbloccato? Stop. Ce l'ho! Ce l'ho! Super Tails. Già lo sto usando? No? Ok. Lo useremo contro il boss. Tuttavia consiglio... Conviene prendere quanti più anelli possibili. Andiamo. Comincia la battaglia boss contro, ovviamente, Eggma. Come? Ma? Ma? Cos'è successo? Oh, mi ha schiacciato. Ok. Suppongo che questo potere consumi anelli. E non lo posso usare perché non abbiamo abbastanza anelli. Un po' come era. Pazienza. Non lo useremo allora. Schippiamo la battaglia. Cosa mi ha schiacciato? Questa piattaforma che sta qua? Allora. Vai. Tails. No, Tails! Non farti schiacciare di nuovo, per favore. Vola. Vola più in alto che puoi. Ok. Scendi. E... Bonk! Ok. Questo dovevi fare. Non farti schiacciare. E già che ci stai, vola. Non voglio rischiare... di essere colpito così. Ehm... Vai. No. No, 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 no. Tanto non... Oh! Se mi stava per colpire. Ok. Due. Ehm... Ho detto due. Ehm... Questo pistone non mi piace per niente. Perché non mi fa volare bene? Vai, vola bene, Tails! Tails, vola bene! Oh! No, ma come mi ha colpito? Fammi... Fammi attaccare Eggman, grazie. Ok. Due colpi. Anzi, tre. Non ci sto capendo niente. Potrei benissimo utilizzare... Oh! 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 L'avatar. L'avatar è buonissimo per colpire. Oppure extra? Extra non è affatto male per colpire i nemici! Ehm... Vai giù. Colpisci e... Dammi l'anello. Colpisci. Ok. Ci posso passare attraverso le gambe? Questa è una cosa che non l'avevo notata. Ehm... Sai che ti dico? Ehm... Facciamo così. Facciamo prima. Extra! Perfetto. Fai pure bonk. Dai. So che sei stanco. Colpiscilo. Ok. Due. Forse un altro. Sarebbe molto bello colpirlo almeno un'altra volta. Ok. Ok. Volevo provare ad usare il Super Tails ma a quanto pare non si può. Dammi un bel frutto. Perfetto. C'è un livello frutto in questo mondo. Però voglio andare al prossimo mondo. Ehm... E fare almeno l'atto 1. Se ci avanza un po' di tempo faremo poi il frutto. Torniamo un attimo alla mappa però. Eccoci qui. Zo... Oh, piano. Zona 8. Abbiamo atto 1, atto Knuckles e atto 2. Ehm... Com'era? Quadrato? Sì. Voglio provare una cosa. Voglio provare Knuckles con il potere extra. Cosa fa? Posso attivare un potere? Sì. So... So... So cosa fa Knuckles. Volevo provare un'altra... Sì. Torniamo alla mappa. Volevo provare Knuckles con il potere extra per vedere se facevo un'animazione diversa. Quanto pare lo posso fare premendo giù. Ok. Però devo prima mettere Tails. Il che è un po' un casino. Perché... Boh. Al pulsante quadrato è legato il tutorial. Allora. Quadrato. Extra. Avvia. Dovrebbe darmi Knuckles. Giusto? Perfetto. L'attacco speciale di Knuckles è leggermente diverso oppure no? Vai. Sì che lo è. Immaginavo bene allora. Pugno! Adesso possiamo andare nell'atto 1 della zona 8. Che si chiama... Gordon Capital. Vai. Golden Capital. Atto 1. Gordon! Bonk! Che poi... Allora. Stiamo usando sempre Knuckles quando abbiamo flipper. Vero? O simili? Beh. Non mi lamento. Aspetta. Devo andare a destra. Ok. Perfetto. Andiamo sopra dai. Bonk. Quello non mi sembra tanto un sopra. Mi sembra tanto un sinistra. Comunque. Qua. Bisogna premere destra per andare a destra. Ecco perché. Mi sono un po' incasinato. Allora. Knuckles. Puoi fluttuare vero? So che puoi flut... Non puoi fluttuare. Non qui almeno. Ok. Comunque. Esatto. Bisogna avere tot anelli prima di poter usare il superpotere. Per superpotere intendo ovviamente Super Sonic e... Ovviamente anche Super Knuckles a questo punto. Però non ho mai visto Knuckles Super. Quindi mi chiedo se cambi qualcosa. Usassi Sonic probabilmente sarei Super Sonic appunto. Golden Sonic. Come volete chiamarlo. A tal proposito. Recentemente. Allo State of Play. Hanno annunciato un... Remake. Chiamiamolo. Di Sonic Generation. Chiamato Sonic and Shadow Generation. Sonic X Shadow. Ma preferisco evitare le connotazioni di dire Sonic X Shadow. Però non vedo l'ora che esca. Se non c'è niente da portare in quel periodo. Perché ovviamente non si sa mai. Probabilmente porterò qualcosa. Magari un Let's Play sarebbe l'ideale. Perché Generation è un gioco Sonic che volevo portare da tipo non so quanto tempo. D'un bel po' in effetti. Vai. No! Sì! Vai su. Vai a destra. Domanda però. Ora che abbiamo finito con... Gli Smeraldi del Chaos. Che succede adesso? Perché... Se trovo un portale mi danno solo medaglie. Lo vedremo se lo troveremo, gente. Ora importa poco. Andiamo giù. Andiamo giù? Posso andare giù? Beh, occhio alla lava, mi raccomando. Flutua, Knuckles. Flutua. E sconfiggi le api. Ci sono lassù le api che... Mi sa che non conviene stare qua però. Vai. No! Ok. Mi sa che conviene andare avanti. Non abbiamo il doppio salto. Ok. E questa è la strada per tornare indietro. Quindi. Finché posso io vado avanti così. Non so come tu ce l'abbia fatta, Knuckles. Però mi rallegra il fatto che tu sia vivo. Perché io sono te adesso. Dai, Knuckles. Non comportarti come la tua controparte di Sonic Boom, per favore. L'ho già detto. A me non piace Sonic Boom. Quindi non aspettatevi un let's play di qualunque gioco Sonic Boom. Perché non ci sarà. Già vi avviso. Posso volare in qualche modo? Posso rimbalzare in qualche modo? Ok. Perfetto. Ho perso un po' di tempo. Ma... Comun! Ma... Comun! Ma... Comun! Comun! Ci devo riuscire, ok? No! Come si fa? Così? Oh! Tre anni do... Silenzio! Silenzio! Mi fai andare su... Allora. Così! Qua! Ci voleva così tanto... A gestire questi co... X! Ok, bene. Scaviamo. La roccia verrà distrutta! Oh! Com'era? Blocco! Blocco! Codo ci blocca! Siamo bloccati! Volete vedere che c'è qualcosa di nascosto? Da qualche parte qui? La cosa non mi piace affatto, però... Pazienza se... Oh! Non cado nella lava! Vai qui! Abbiamo il magnete, è vero? Per questo si stanno... Sì, ok. Cosa ho visto là sopra? Un bel niente! Ok. Pensavo ci fosse un portale. Non c'era un portale. Ehm... Occhio allo... Oh! Boy! Perché mi sembra di essere nell'ultimo livello di Mario... Di Super Mario... New Super Mario Bros. Quello per D... Quello per... DS, ok. Parlando di quel gioco... Prima o poi lo porterò. Non adesso che stanno uscendo 370 giochi di Mario... In quest'anno. Però prima o poi lo porterò! Ok. Anche perché è il primo gioco della saga New Super Mario Bros. Cioè... Sonic! Ti ho visto, mio caro e vecchio rivale blu! Parlando di... Parlando di Sonic e Knuckles, in effetti... Non ho ancora visto i film di Sonic. Né il primo né il secondo. Fa un po' strano perché sono film che guarderei volentieri. Forse... Non li ho visti perché... Ho pensato al fatto del... Vai qua. Vai qua. No. Vai qua. Ho pensato al fatto delle gambe di Sonic. Del vecchio film. Quello là con Sonic strano... Umano. Però... L'hanno tolto. Quindi non dovrei... Come faccio ad andare avanti qui? Non dovrei trattenermi. Cioè... Una volta che ho visto... Com'è che si chiama? Into the Spider-Verse. Ho detto... Wow! Quando esce il prossimo. In effetti esce quest'anno. Però... Lasciamo stare. Sì. Eccoci qua. Non so neanche io che sto dicendo. Mi raccomando. Cercate di capirmi. Ogni tanto bevo troppo caffè. E quando bevo troppo caffè divento... Logorroico. Più del solito poi. Quindi... Occhio. Va... Egg. Egg. Abbiamo... Aspetta. Posso? Sì. Posso. Allora appena posso scendere. E siamo... Non posso più. Abbiamo appena sbloccato questa cosa. E ovviamente non la posso usare. Perché mi mancano anelli. Beh andiamo nello sfondo. Recuperiamo quanti più anelli possibili. Mi sa che ne servono proprio 50. Per... Per attivare la... La super forma. Insomma. Rimbalza. Andiamo adesso. Cos'è quello là sotto? È un pulsante da attivare? Oppure... Oppure no? Vai. Anelli? Anelli? Fammi andare in quel coso. Ok. Bene. Sì. Erano anelli. Il fatto che appaia Sonic però vuol dire che probabilmente ho perso un po' di personaggi negli sfondi. Ehm. Perché ho scelto di usare... Non lo so. Amy o... O altro. Ehm. Abbastanza sicuro che non avessi scelto di usare Amy nel... Come si chiama quella zona? In Lagoon City. Avrei forse trovato Amy nello sfondo. Avrebbe molto senso la cosa eh. Scava! Drill! Laser! Laser! E questo è Sonic Color. Mi raccomando. Che ho portato sul canale. Mi raccomando. Non dimenticatevi mai di Sonic Colors con l'audio buggato. Ehm. Chissà se hanno patchato... Beh. Sicuramente hanno patchato Sonic Colors con l'audio buggato. Vero? Per favore. Ottimo gioco di Sonic. Iper valido come il gioco di Sonic. Ehm. Peccato che nella versione PlayStation 4 era buggato l'audio. Ma... Oltre quello... Pazienza. Andiamo giù! E affrontiamo un miniboss a breve mi sa eh. Mantis! Mi spiace. Posso attivarlo? No. Mi servono davvero 50 anelli allora. Bene. Ehm. Un po' come le zone bonus dei checkpoint. Non ve l'ho già detto. Ehm. Mi sembra. O forse ve l'ho detto però... Beh. Per sicurezza lo ridico. Grazie degli anelli! Ok. Ehm. Però non è possibile andare nelle zone bonus che vi danno medaglie dei checkpoint intendo. Se avete meno di 50 anelli. Dovete averne 50 per attivarlo. Me l'avete scritto voi quindi grazie. Switch? No. Mi sa che a breve girerà tutto quanto... Oh! Aspetta. Perché? C'è un... Ovviamente appena voglio utilizzare il potere di Super Sonic. In questo caso Knuckles. Ok. Dammelo. Dammene 50. Perfetto. Pronti? 3, 2, 1. Super Knuckles! Siamo immuni anche alla lava! Arrampicati. Arrampicati. E sì. Perdiamo anelli pian piano. Quindi attenzione. Però questa è la vera essenza di Sonic. In questo caso anche Knuckles. Bene. Adoro. Posso annullarlo vero? Sì con L1 più R1. Quindi lo annullerò a breve perché non ci sto capendo più niente. Wiii! E non voglio affrontare un mini boss o un boss così. Ah ah. Non posso! Mi ha rubato tutti gli anelli! Mi ha rubato tutti gli anelli! No! L'ho capito il linghippo eh! L'ho capito davvero un sacco linghippo! Ora non l'ho capito più. Wow! Bombe? Bombe? Aspetta. Se switcho ancora... Devo colpire le bombe allora. Mi sa. Avrebbe molto senso. No! Sonic! Knuckles! No! No! Bonk! Ok. Dammi anelli! Mi serve un anello! Mi serve un anello! Grazie! Grazie! Ok! Da notare! Sblocco la superforma e la prima battaglia importante che mi ritrovo... Ah ok! No! Non toccare le bombe allora Tonks! E la prima battaglia importante che mi ritrovo è una battaglia dove ti tolgono tutti gli anelli e non puoi usare la superforma! Senti scendi! Oppure arrivo io da te dietro! Attaccami! Ho cinque anelli apposta! Donk! Ne voglio altri! Voglio altri anelli! Voglio altri anelli! Knuckles è molto buono qui! Ripeto! Probabilmente usassi l'avatar avrei già finito! Il punto è che è divertente usare avatar! Oh! Piano! Beh sì! È divertente usare avatar! Avatar! Anche perché era l'ultimo colpo! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo speso un bel po' di tempo! Sai che ti dico? Ah! Non posso usare altri poteri! Ok! Bene! Suppongo si debba aprire un qualche passaggio! Perfetto! Ce l'ho fatta! Siamo vivi! Abbiamo salvato quest'altro maialino! E Knuckles! Finisce l'atto 1 di Golden City! Knuckles! Ce l'ha fatta! Pa-pa-pa-pa-pa! Però ci fermiamo qui! Perché nella prossima parte di Sonic Superstars useremo Knuckles nell'atto Knuckles nell'atto 2 di Golden Capital e poi torneremo indietro a fare il livello bonus del frutto perché adesso non abbiamo più tempo! See you next time baby con il super potere! Hahahahah婆! ha 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 ha! È m'ha ha ha Band nel . Ha 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 ha!